Mi hai nominato? La risposta a shock di Maddalonia Beatrice. Al grande fratello la Luzzi rompe il muro del suono delle nomination e conquista un record mai toccato prima. È lei infatti la persona più nominata in assoluto di ogni edizione del reality show. Proprio così, per quanto sia amata e ben voluta dal pubblico della trasmissione, Beatrice Luzzi è temuta e per certi versi anche odiata, all'interno delle mura della famosa villa di Cinecittà. E ogni volta la concorrente, data per vincente di questa edizione, non riesce a spiegarsi tanta cattiveria e paura nei suoi confronti. L'ultimo episodio è avvenuto dopo l'ultima diretta del 30 dicembre 2020. Dopo le nomination Beatrice Luzzi è andata a chiedere a Marco Maddaloni riguardo alla possibilità che avesse menzionato il suo nome durante le nomination segrete. Marco però, nonostante la richiesta estremamente specifica, ha risposto di no, ma questo soltanto in un primo momento. Poco dopo lo sportivo ha ammesso di averla nominata, ma ha rifiutato di rivelare i dettagli, definendo la situazione simile a un gioco. Io non dico che ho nominato, sto diventando come Giuseppe. Io imparo i perché dici questo, non facciamo il fatto del giocatore. Non voglio parlarne più, ma non solo con te, con tutti. E ancora, ti giuro, veramente. Ho vissuto male questi due giorni, pensavo di essere più forte come persona. Sono deluso da me, voglio restarne fuori, faccio quello che devo vivendomi la casa. Se vuoi pensare così fai pure, se fossi in te lo farei anche io. Chiaramente Beatrice non l'ha presa benissimo e ha definito ma da...